Ciao a tutti ragazzi qui è l'IP3 che mi parla e volevo dirvi capire un canale e farò video insieme a dei miei amici di cui Svon04 che è qui ciao ciao io ritorno a dormire ma io voglio dormire questo non è un letto e farò questo è un letto challenge stai spagnando challenge 3 qui a me mi piace chiamare lì per cagare tipi di tipi da tipi di tipi da tipi di tipi da ah lui ferà tipo il frenchman ma va bene che cazzo sta a fare non aprire questo torno ecco ecco stanche di morire è il mio canale farlo io e poi lo vado a scrivere qui sotto nei commenti così non ti si vede con il canale lo so dovete inventare il mio canale sta vincendo 1 a 0 top è tutto bello 2 a 1 e dovete scrivermi qui sotto le vostre challenge inventate mi sono un canale e dovete scrivermi come si fanno così e io video cazzetto cazzeggio con i miei amici cazzeggio a giro con i miei amici e trovo di qualcosa a parte quindi adesso vi saluto e e poi mi dovete scrivere qui sotto sempre qui sotto nei commenti come inizierò tipo i miei video per ora che non ho ancora deciso uno farò tipo due amici che è la parola inventata tra noi amici ecco basta 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 e e farò uno speciale per ogni tipo a 50 iscritti farò speciali ragazzi grazie per i 36 iscritti iiii è il mio canale te lo devo ridire e si apre il casetto lo so e non so più cosa dirvi grazie ragazzi per i 36 iscritti no tra l'altro c'avevo la testa qui infilata e lui questo individuo scemo qua giù c'avevo la testa qui bella bella